Questa è uno scafo con una motorizzazione da 500 cavalli, due motori SIDU idrogetto, da 250 cavalli a motore. Adesso vediamo le performance di questo scafo che riesce ad arrivare addirittura a quasi 70 nodi, 68 nodi per esattezza calcolati con GPS. L'accelerazione è impressionante, adesso diamo una dimostrazione. Tieniti bene, partiamo, 10 nodi, 10 nodi, affondo tutto, adesso affondo tutto. Grazie.